Jacopo Dezzi, Gianluca Di Chiara e Francesco Nicastro. Secondo i tifosi biancorossi che li hanno votati nell'ambito del trofeo miglior grifone gioielleria Bartoccini giunto alla diciassettesima edizione, sono stati loro i giocatori più bravi in campo rispettivamente nelle partite Perugia-Carpi, Vicenza-Perugia e Perugia-Trapani. I premi di tappa, buoni acquisto da spendere nelle gioiellerie Bartoccini, sono stati consegnati ai calciatori biancorossi nel Museo della C Perugia Calcio a Pian di Massiano. Omaggi anche per i tifosi che hanno espresso le loro preferenze, si tratta di Simone Legumi e Sofia Codini del Perugia Club Aper90 di Capocavallo e Franca Focchini. Sul sito www.perugiaclub.com dunque si potrà votare il calciatore ritenuto più meritevole nei tre giorni successivi alla partita tra una rosa di quattro nomi scelti dal coordinamento Perugia Club. Al termine del campionato il giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di riconoscimenti, vincerà un orologio glissino offerto dalla gioielleria Bartoccini personalizzato con il logo del Perugia Calcio. Da quest'anno si vota sul nostro sito e vediamo che chiaramente quando il Perugia vince ci sono molti più voti che in altri casi, però non pensavamo di riscuotere questo successo. È molto bello, è positivo, stanno venendo fuori altri giocatori, come sta venendo fuori Desi, è venuto fuori Brighi e quindi questa è la dimostrazione che è venuto fuori di Chiara e quindi è la dimostrazione che ecco che la squadra funziona, la squadra va e per questo vincono un po' tutti ecco e non vince fortunatamente il portiere perché quando vince il portiere è sempre un risultato un po' negativo e quindi bene bene perché è importante sia per noi come associazione soprattutto per chi sostiene come la gioielleria Bartoccini e soprattutto per la squadra perché poi vedo che i giocatori come è successo questa sera ci tengono, fanno domande e quindi piace, piace.